Questa grande tela del maestro Nicola Furlan è un quadro del 2019 che si intitola Il mondo in camera. È esposto al centro culturale Candiani in occasione della bella mostra personale con le opere del maestro che si intitola Luci e trasparenze. Il mondo in camera, come praticamente tutte le opere di Furlan, fa riferimento a un momento preciso della sua vita, prende ispirazione proprio da quel momento. In questo caso si riferisce a quando l'artista dalla sua camera poteva vedere solo una frazione di cielo, non vedeva cosa succedeva a terra e quindi ha cercato di immaginarlo e di conseguenza anche poi di raffigurarlo nel suo dipinto. Una cosa che appunto fa spesso nelle sue opere che nonostante siano delle composizioni astratte, dove grandi protagonisti sono il colore e la luce, c'è sempre un'ispirazione, c'è sempre una storia, c'è sempre un momento, un attimo che ci rimanda al passato, un suo ricordo che appunto ha ispirato in quel momento l'opera.